Dopodiché vediamo come stanno andando i lavori oggi, com'è la situazione della sala operativa. Aspettiamo da questo punto di vista un miglioramento non prima, ma importante, legato ad un incendi che già da diversi giusti. Abbiamo avuto diverse interlocuzioni anche con il Ministro degli Affari Esteri, con il momento non ho ulteriori aggiornamenti e passo a voi la parola. Grazie, grazie e buona giornata. Grazie Ingegner D'Angelo, anche oltre che alle strutture, al ricattimento della protezione civile, ai migliori del fuoco che sono qui rappresentati, perché davvero stanno dando il massimo e insieme in sinergia poi sono situazioni che si cerca di affrontare con lo spirito di massima collaborazione. Grazie ancora, grazie di tutto quello che state facendo, buon lavoro e buon ferragosto a tutti.